Città Trenta la possiamo già vedere dopo domani, non solo già oggi, che se ne discute abbondantemente, ma vediamo un pochettino cosa succede praticamente, perché le linee su Bologna ormai o per mancanza di autisti o per mancanza di mezzi sono già ridotte all'osso. Lo si nota alle fermate, lo si nota alle capolinea e purtroppo adesso si aggiunge la Città Trenta. Vedremo. Diciamo che ad oggi le istituzioni e l'azienda non è che hanno dato soddisfazione per poter dire, bene, incominciamo, poi vedremo. No, perché non si può andare a fare delle simulazioni di notte quando la strada è deserta e poi dire, ah, ci sono solo tre minuti a percorrenza di ritardo, però se un turno fai sei, sette percorrenze, insomma, già stiamo sui 20-30 minuti di ritardo a corsa. Quindi c'è stata, diciamo, una fretta che non ha aiutato.